Avete presente quando incrociate i due begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio. E dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che... 320 dollari per una muta da sub! 787 dollari di biancheria intima! L'intimo è un diritto umano inalienabile!